Musica Ancora un attentato incendiario ai danni di un dipendente comunale di Carovigno. Dopo quello a corso all'autovettura del fratello del sindaco Brandi, la notte scorsa è andata a fuoco una villetta al mare a Torre Santa Sabina, in località Mezzaluna, ad essere presa di mira l'abitazione estiva di Giuseppe Lotti, in servizio presso gli uffici dell'assessorato e le attività produttive. Certa la matrice dolosa del ruogo, gli autori infatti hanno dapprima forzato una porta finestra e poi, una volta entrati in casa, hanno cosparso un mobile di liquido infiammabile e successivamente gli hanno dato fuoco. Fortunatamente le fiamme si sono estinte autonomamente, bruciando il mobile interessato ed anerendo solo le pareti della villetta. La scoperta dell'incendio è stata fatta solo questa mattina. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Zambito De Normanni.